Le insistenti piogge degli ultimi giorni martedì hanno concesso una fugace tregua dopo due settimane quasi interrotte causando anche danni lungo l'asta del Po, in particolare in Piemonte, nell'Alessandrino, dove l'allerta idrogeologica in alcuni comuni è stata alzata a livello più elevato. In provincia di Pavia, la Piana del Posto ha defluendo senza particolari problemi, il colmo è transitato attorno alla mezzanotte di lunedì al Ponte della Becca con valori che hanno sfiorato la soglia 1 di criticità con 3,42 metri sullo zero. La Piena ha interessato anche le aree golenali costringendo un greggio di pecore che stava pascolando nel territorio di mezzanino ad attraversare il ponte per portarsi sul lato pavese nel comune di Linarolo. Lo spostamento obbligato degli animali ha provocato alcuni disagi alla circolazione con rallentamenti lungo la statale 617 bronese tra le 10 e le 10 e 30, poi tutto è tornato alla normalità. Il monitoraggio da parte delle autorità competenti tuttavia prosegue. Dalla pomeriggio la pioggia è tornata e la neve abbondante caduta sull'arco alpino potrebbe contribuire con l'aumento delle temperature e il successivo scioglimento a tenere alti i livelli dei fiumi. Oltre al Po e al Ticino sono costantemente monitorati anche i corsi d'acqua della Lomellina come il torrente Arbonia o il terdoppio fino al fiume Sesia.